Grande successo per la presentazione dell'ultimo libro di Gio Nocchetti Gesù non aveva amici e nemmeno una famiglia tenutasi presso il Palazzo delle Arti di Napoli All'incontro moderato dalla giornalista Rai Maria Laura Massa sono intervenuti oltre all'autore ospiti illustri come l'assessore alla cultura Nino Daniele il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone Luigi Amelillo, docente di bioetica presso l'Università Laurentale di Napoli e il noto critico e saggista Vittorio Sgarbi Al centro dell'opera di Nocchetti vi è la minuziosa analisi e rovesciamento di quelli che sono i luoghi comuni legati alla figura dell'amicizia ma soprattutto della famiglia che per le complicità che si vengono a creare al suo interno e le particolari eccezioni concessali dal diritto penale viene considerato dall'autore come agente patogeno dell'associazione a stampo mafioso rivendicando così un diritto ad un sano odio e alla solitudine Numerosi gli spunti offerti dall'intervento di Vittorio Sgarbi che con la solita ironia e riverenza che lo contraddistinguono si è professato come estreno difensore dei diritti individuali piuttosto che legati a un contesto collettivo e ha sottolineato come la società in realtà si distingua profondamente dalla figura di Cristo il quale non era sposato e si circondava di discepoli e non di amici Gesù non aveva amici nemmeno una famiglia edito da Tullio Pironti è un libro che a detta dell'autore permette di distinguere le amicizie reali da quelle false e offre al lettore una visione particolare per certi versi inedita su quella che è l'istituzione che permia maggiormente l'essere umano la famiglia io non parlo gli ditti quindi ho fotografato il mio quarto figlio grazie a tutti